Le offese del Ministro Di Maio offendono un'intera comunità. Lo voglio dire perché la comunità del Movimento 5 Stelle si è dotata democraticamente, votandola di un'organizzazione. Le priorità su cui noi stiamo combattendo sono altre. Sono quelle legate alla difesa dei cittadini, alla difesa delle imprese, alla difesa dei lavoratori. Vogliamo far tacere le armi in Ucraina e far preverere la diplomazia. Sono queste le cose su cui ci dobbiamo concentrare. Grazie.